Torna l'attenzione internazionale sulla Siria a seguito del ponte aereo russo che sta portando uomini e mezzi in sostegno ad Assad che lotta contro le forze ISIS. All'attacchia aerei cargo avrebbero sbarcato unità delle forze speciali russe. L'Irana ha ufficialmente annunciato l'apertura del ponte aereo. Sul tema colloquio telefonico tra il segretario di Stato americano Kerry e il ministro degli esteri di Mosca Lavrov. L'intervento della Russia complica lo scenario, commenta il ministro degli esteri Gentiloni. Passiamo all'ondata migratoria in Europa. Mentre si normalizza la questione in Danimarca, che ha riaperto i collegamenti ferroviari, l'attenzione torna in Ungheria, dove il governo sarebbe pronto a mandare l'esercito alla frontiera per bloccare i migranti. Se ne attendono almeno 40.000 la prossima settimana. Non è il momento della paura, aveva ribadito ieri all'Europarlamento il presidente della Commissione europea Juncker. Si approva il piano di redistribuzione di 160.000 rifugiati da Italia, Grecia e Ungheria, aveva chiesto agli stati membri. Torniamo in Italia, dove la riforma del Senato agita ancora il PD. Tra Renzi e la minoranza, che insiste sulla modifica dell'articolo 2, toni più distesi, ma manca ancora l'intesa. Samana il tavolo a Palazzo Madama per la ridefinizione della funzione e delle competenze del nuovo Senato. Ferma oggi per uno sciopero tutta l'area industriale di Priola, Siracusa, dopo l'incidente in cui sono morti due operai. I due di 37 e di 33 anni sono precipitati da un pontile perché investiti da vapori durante un intervento di manutenzione nell'impianto di etilene della Versalis, un'azienda del gruppo Eni. La mostra del cinema di Venezia, che ieri ha premiato Brian De Palma per la carriera, si avvia al weekend finale. In concorso due film, Des De Allade, il venezuelano Lorenzo Vigas e Remember del canadese Atom Egoian. Fuori concorso franco maresco, con il film documentario sul teatro di Franco Scaldati, gli uomini di questa città io non li conosco. L'olandese Tom Dumoulin ha vinto ieri la diciassettesima tappa della Vuelta, la cronometro di Burgos, e a quattro giorni dal termine della corsa torna in maglia rossa, ma l'italiano Fabio Aro, giunto decimo, ha solo tre secondi di ritardo. Oggi diciottesima frazione con arrivo a Riasa dopo 204 chilometri e tre gran premi della montagna.